La torta Sacher è un dolce strepitoso, vanto assoluto della pasticceria austriaca la cui ricetta rimane da sempre segreta. Ma come nasce questa torta mitologica? La torta Sacher o Sachertort è stata creata nel 1832 a Viena da Franz Sacher, un giovane pasticcere a cui il cancelliere austriaco Clemens von Metternich chiese di creare una torta speciale per un ospite speciale. Sachert aveva appena 16 anni e si ritrovò a dover sostituire il pasticcere di corte che era ammalato. Poiché il cioccolato era il suo ingrediente preferito creò questa torta leggendaria tanto che Metternich quando assaggiò la creazione esultò. La torta Sachert fu al centro anche di un contenzioso tra il suo creatore e Daniel Peter, un artigiano svizzero che aveva inventato il cioccolato al latte. Peter riteneva che l'invenzione di quella torta fosse sua ma Sacher vinse la causa nel 1875. Quando Franz Sachert mise di fare il pasticcere apriva Viena a un hotel che porta il suo nome che ancora oggi è il posto in cui viene servita la Sachertorta originale la cui ricetta resta ancora attualmente segreta. Non fidatevi di nessun pasticcere che cerchi di farvi credere che la sua torta Sachert sia stata preparata secondo la ricetta originale. Non è possibile!